Buongiorno a tutti, presentazione ufficiale questa sera alla festa della Bea, sono abbastanza caldi questi tifosi? Molti, buono, bisogna dare un voto e dare poco e dare giù. Primi giorni di lavoro a Brentonico, procede bene al ritiro? Sì, posso fare. Ora, a fare... Scusa, deve arrivare acqua fresca e ve la facciamo a comprare. Quindi, le sembra completa per ora? Sì, sì. Bene, grazie, bocca al luce. Prego, grazie.